Ciao ragazzacci, io sono Mito125 e oggi siamo qui in una nuova recensione su un prodotto un po' diverso dal genere gaming che non c'entra niente col mondo gaming però fa parte sempre dell'elettronica e secondo me è una cosa carina da vedere di cui venire a conoscenza. Che cosa serve a questo strumento? Questo strumento misura in tempo reale il consumo di tutti gli apparecchi collegati a quella presa elettrica quindi mettendo un apparecchio per volta si può sapere il consumo in tempo reale dell'apparecchio stesso vi chiederete perché hai preso questa cosa e hai deciso di farcela vedere? Ho preso questo strumento per misurare e per fare dei calcoli accurati il consumo di tutto ciò che ho collegato in casa per vedere se riuscivo a tenere d'estate, quindi adesso l'estate è quasi finita quindi non lo accenderò neanche più il condizionatore durante lo streaming. Ho fatto tutti i miei calcoli, ci andavo giusto giusto, ci andavo quindi ho preferito non attaccarlo, ecco perché d'estate non ho usato il green screen con le luci perché faceva troppo caldo il condizionatore consuma veramente veramente tanto quindi adesso immaginatemi in casa che vada a misurare tutti e tutto quello che c'è e ho fatto diversi test anche su cose che non servivano ho fatto una tabellina e intanto vado a leggere i dati ho acceso il forno, restate, c'è del forno esatto, non è consigliato 1074 watt, stai scherzando forno, sei fuori di testa, 1074 watt sono tantissimi poi ho acceso un dispositivo che serve per fare le pizze, quasi vicino a quelle che fanno le pizzerie ma non è vero, quasi, così, un po' allontana, serve per le pizze 1142, cosa? State scherzando? Il bello, adesso voi vi chiederete che te ne fai di questi dati? no niente, dove preoccupate, però ce l'avevo poi sono andato a guardare, ho in casa un dispositivo per depurare l'acqua e consuma dai 100 watt ai 400 watt, una cosa assurda dico, buongiorno, ma mi state scherzando? 99 quando è in funzione, ha due modalità di funzione 400 quando raffredda l'acqua e poi quando è in idle non me lo ricordo, non l'ho segnato, sto leggendo i dati poi ho un portatile vecchio in casa che non lo accendevo da chissà quanto l'ho acceso, ho messo a riprodurre un video, 35 watt dico, caspita, il portatile consuma veramente pochissimo poi ho preso il forno per i capelli, sì, vedete i grandi capelli, i lughi, i capelli che c'ho, c'ho un forno però in casa non serve però, ce l'ho se mi fa ridere, fa ridere e in pratica parte a diverse modalità di funzioni da un 98 watt, 98 watt sono tanti no, non so niente praticamente a 1884 watt di cosa? sono quasi 2 kilowatt che si succhia solo lui sei pazzo fuori di testa? vabbè che tanto non accendiamo poco il forno quindi il forno, quindi l'acendo praticamente zero l'acendo praticamente zero poi ho, quest'estate, utilizzato un'ammazza zanzare e quindi ho deciso, sì, voglio misurare anche il ray 5 watt, 5 watt praticamente niente poi ho misurato anche l'aspirapolvere l'aspirapolvere arriva a 709 709 watt, va bene, ci può stare per ultimo, ed è il dispositivo che mi interessava sono andata a guardare il condizionatore il condizionatore consuma in partenza 1300 watt quasi 1300 watt per poi fermarsi sugli 800 allora io che ho fatto? controllato quello controllato anche il dispositivo da streaming cioè i due computer collegati che ho usato durante lo streaming e arrivavo a 2000 watt adesso 2000 watt non mi sono andato a calcolare tutto quanto però voi sapete il condizionatore di casa vi dà un massimo di 3 kilowatt e per un 10% per pochi minuti un 10% in più per pochi minuti quindi 3,3 kilowatt andiamo così più o meno grandi numeri ho visto che c'entravo e voi direte quindi hai visto che ci stavi tranquillamente e non l'hai usato? sì, non l'ho usato perché non mi fidavo non mi fidavo dei miei dati quindi niente, è un dispositivo che voglio farvi vedere è molto carino la conoscenza è tutto il potere deriva dalla conoscenza quindi volevo conoscere quanto consumava il computer mi faccio un esempio il mio computer durante il gameplay consuma 300 watt quindi ho un alimentatore da 600 non so perché ne consumo 300 non ho mai capito non sono mai stato bravo con la parte elettrica delle cose quindi finisce con questa recensione spero che vi abbia strappato un sorriso sapere i dati delle cose che ho in casa vi lascio sotto in iscrizione il link se anche voi volete prendere questo dispositivo costa veramente pochissimo e vi fa divertire girando in casa misurare le cose vi lascio sotto il link in iscrizione il video finisce qui se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un commento un mi piace di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti di condividere i video se potete e noi ci vediamo nelle prossime puntate ciao